ciao steline e benvenuti o bentornati sul nostro canale oggi vi voglio raccontare di un evento che mi è successo sono andata a un matrimonio di dei loro vecchi amici allora cominciato mattino ci siamo vestiti tutti abbastanza eleganti e siamo andati e siamo andati alla chiesa però non abbiamo proprio stessi tutto la messa e tutto il matrimonio siamo nati solo fuori ad aspettare che uscissero gli sposi e siamo arrivati fuori dalla chiesa dove c'era già tutti gli altri nostri parenti che aspettavano che uscissero tra cui mattia tra cui mattia e sogna i nostri cugini che avete visto nella storia in cui ho preso pulce ciao chiara stella iari siete arrivati finalmente allora sapete quando escono no è già 20 minuti che li aspettiamo comunque le atti sono le cassette con riso quando usciranno gliele tireremo oh sì sarà super divertente già abbiamo aspettato parecchio ma poi finalmente dopo un po' quelli più vicino hanno sentito i passi stanno arrivando presto tutti pronti con il riso ok 3 2 1 sì e così li abbiamo inondati di riso poi siamo arrivati per primi a un favoloso buffet e abbiamo iniziato a mangiare sono arrivati gli altri invitati e gli sposi dopo aver fatto le foto noi ci siamo seduti al tavolo dei bambini e poi gli altri invitati si sono seduti nei tavoli a caso e gli sposi mangiavano in un tavolo per loro e avevano c'era anche c'erano anche dei dj con la loro figlia che emettevano musica quindi genere poi li avevano chiamato un signore che intratteneva i bambini con dei trucchetti a tavola ed era anche quello che ci serviva per me aria e mattia era noioso insomma comunque siamo grandi invece chiare sogni agli altri bambini piaceva e abbiamo finito di mangiare in fretta perché ci servivano subito mentre gli adulti dovevano aspettare siamo andati un po fuori perché ci annoiavamo però quel giorno era brutto pioveva e non c'era anche un bel prato ma non potevamo stare fuori perché pioveva allora siamo andati dentro con un cioè annoiati insomma comunque poi il signore ci ha chiamato che c'era uno spettacolo nell'altra parte del ristorante e noi vabbè dai andiamoci sì sì lo spettacolo andiamoci sì allora siete pronti per lo spettacolo bimbi il mago ma non c'è nient'altro da fare e no fuori piove guardiamo se è accettabile ora farò sparire queste carte però faceva dei trucchi davvero troppo le pimpi noi tre eravamo i più grandi e quindi bu ce ne siamo andati niente siamo stati il tavolo abbiamo un po parlato mentre gli adulti dovevano ancora mangiare ci stiamo annoiando e poi all'improvviso sono arrivati i bambini ehi ragazze sveglia che cosa c'è il mago ha detto che c'è una caccia al tesoro e voi dovete essere capi squadra ci faremo tre squadre dai andiamo e abbiamo chiamati ora arriveranno bene così faranno la capi alle vostre tre squadre ora mettetevi in fila così vi divido vabbè se dobbiamo farlo è certo sono piccoli non possono giocare da soli dai andiamo ad aiutarli bene eccovi qui li ho divisi già in tre squadre ecco voi scegliete una squadra da fare a capo boh io faccio a questa io questi e io qua bene adesso voi siete criceti scimmie e lumache ho nascosto dei biglietti in giro andate a cercarli dopo aver fatto la caccia al tesoro bene abbiamo preso tutte le buste chi ha vinto siete arrivati in parità quindi il premio va a tutti gli è qual è il premio caramelle di caramelle 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 beh dai magari ne prendiamo qualcuno sì ce lo meritiamo abbiamo giocato poi più tardi poi a più tardi hanno montato tipo una come si chiama una un telo dove hanno proiettato un video sulla vita degli sposi così noi abbiamo guardato poi più tardi c'è stato il lancio del bouquet tre due uno yes sì l'ho preso io l'ha preso la mia cugina di terzo grado noi abbiamo guardato e poi siamo andati via perché stavamo appunto andando via ormai era già tardi non ci siamo fermati a cena ciao a tutti ciao mattia e sonia ciao ragazze bene se lì il nostro episodio finisce qui questa era la storia che volevo condividere ci vediamo nella prossima che ho già in mente iscrivetevi al canale lasciate like e condividete il video e diteci anche nei commenti se a voi vi annoiate ai matrimoni cosa fate per non annoiarvi perché noi ci siamo comunque annoiati cioè il mago è per bambini ciao ciao